Il prestigioso trofeo Cave di Cusa, terzo appuntamento stagionale del campionato italiano regolarità autostoriche Cireas, ha toccato anche Santa Margherita di Belice, Montevago, Partanna, Santa Ninfa, Gibellina e Sala Paruta, attraversando quindi la Valle del Belice e i luoghi simbolo del terremoto del 1968. La carovana, organizzata dall'associazione Cave di Cusa, con il patrocino dell'Ace di Trapani, ha visto al via una quarantina di equipaggi che si sono contesi dall'oro del Cireas e quello della regolarità turistica per vetture storiche e moderne. La gara è stata lunga 186 chilometri, con 65 prove cronometrate e 7 controlli orari, con partenza e arrivo da Campobello di Mazzara. Fra paesaggi mozzafiato ed equipaggi di altissimo livello, quello siciliano si è certamente qualificato come uno degli appuntamenti più apprezzati del tricolore 2021, tappa un po' condizionata dalla pioggia. Le immagini che stiamo vedendo sono state registrate dal blog Il futuro dipende da te di Francesco Graffeo. La manifestazione è stata vinta dal duo di casa composto da Mario Passanante, navigato dalla moglie Anna Maria Pisciotta, su Fiat 508C del 1937. Secondi sul podio il duo Campobellese composto da Francesco e Giuseppe Di Pietra, padre e figlio, su Fiat 600 del 1958. Terzo si è classificato l'equipaggio composto da Giovanni Moceri, navigato dal presidente dell'Aci Palermo, Angelo Pizzuto, su Fiat 508 del 1939. Tra le scuderie protagoniste è stata la Nettuno Bologna, subito dietro la scuderia Classic Team. Bellissime le auto che hanno partecipato alla Kermesse. Oltre a quelle vincitrici, citiamo, in ordine sparso, altre vetture. Fiat 600 del 58, Alfa Romeo del 68, Fiat 1100 del 46, Auto Bianchi del 78 e tante altre. Il prossimo appuntamento, con il tricolore della regolarità, è in programma nel weekend del 17 e 18 aprile, in occasione del Valli Bielesi o Asizzegna.